Ci sono alcune cose che il successo non è. Non è fama, non è denaro o potere. Il successo è svegliarsi la mattina, talmente eccitata per quello che devi fare, che non vedi l'ora di uscire di casa. È lavorare con gente che la pensa come te. Il successo è avere un contatto con il mondo e dare emozioni agli altri. È riuscire a trovare un modo per unire persone che non hanno nulla in comune se non un sogno. È andare a dormire la sera sapendo che hai dato il meglio di te. Il successo è gioia e libertà e amicizia. E il successo è amore. E il successo è il successo.